La quinta corsa al cirigliano è il premio Daphne, una condizionata per 5-6 anni sulla distanza del miglio. Nove i concorrenti agli ordini dello starter, il ritiro di Aldebaran Robb. Prima fila per Zarzamora, Zafronpley, Akira Font, Attila Dino, Zarbon. Seconda fila per Zeus Boy, Amuleto Luiz, Zanna Bianca Bass, Alniat FKS. Già tutto pronto. Autostart che sta prendendo velocità. Partono a tutta anche i numeri più esterni, in quattro a lottare per il comando. Dal largo Zarbon cerca di convergere e sembra anche poterci riuscire, ma solo per un attimo. Perché poi rientra tutti i villani con Zafronpley, Akira Font si sistema secondo e Zarbon è costretto a largo. Terza la corda a Zazzamora, seconda pariglia per Attila Dino, terza per Alniat FKS. Il dottor Villani rallenta il suo allievo dopo lo strappo. Quarto in 32, Zafronpley con Zarbon che si è adeguato ai suoi fianchi, Akira Font e Zarzamora la corda. A largo Attila Dino e da Alniat FKS. 46, 600 sul piede dell'1,16 e mezzo. Questa prima parte di gara. Al passaggio davanti alle tribune, Zafronpley affiancato da Zarbon, Zarbon, Akira Font affiancata da Attila Dino, Zarzamora con ai lati Alniat. Giro di pista in 1,1 e mezzo. Ritmo che si è ridotto ulteriormente. Il chilometro di Zafronpley è percorsi in 1,17 scarsi. Sulla retta di fronte Zarbon lo impegna. I due apparigliati arrivano ai tre quarti di miglio. Percorsi in 1,31 ma con 14,1 di ultima frazione. Insiste Zarbon ai lati di Zafronpley. Si sta liberando Akira Font. Fanno fatica ad inserirsi gli altri. Zeus Boy squalificato. Ingresso in retta d'arrivo. Zafronpley ha respinto Zarbon fino a questo momento. Zarbon insiste ma Zafronpley si allarga. Di dentro va Akira Font. Akira Font impegna Zafronpley in prossimità del palo. I due perfettamente apparigliati. Vicinissimi. Zafronpley che era in vantaggio ed Akira Font che ci ha provato all'interno. Abbiamo bisogno di un'altra inquadratura. Quella ravvicinata ecco adesso si capirà molto meglio. Zafron in vantaggio. Akira Font si inserisce, si insinua al suo interno. Ma probabilmente Zafronpley conserva un lieve margine. Ma sarebbe lievissimo. Quindi attendete il giudice d'arrivo. Al terzo è il 6 di Zarbon che corre alla grande. Dalla partenza all'arrivo. Di fuori ha Zafronpley. Quindi foto per il primo tra Zafronpley numero 3 ed Akira Font numero 4. Al terzo il 6, Zarbon. La media dovrebbe essere di 1.14.9 per chi vince.